A riposto per una settimana intera si sono fermati i lavori del Consiglio Comunale, più per una serie di coincidenze che per una vera e propria volontà politica. Si ripartirà martedì prossimo e 30 novembre con l'attività ispettiva e poi giovedì 2 dicembre il Consiglio sarà invece dedicato alle associazioni dopo il caso consulte. Si riparte dopo la nomina d'assessore di Paolo Emanuele. Per il momento il sindaco Enzo Caragliano ha deciso di decretare un time out e si è preso qualche giorno di tempo per capire se, come e quando proseguire la verifica politica che comunque in maggioranza non potrà essere rinviata a lungo. Ancora Caragliano deve spiegare agli alleati come intende completare la consigliatura per provare poi a mantenere il governo della città anche nel 2018. Per questo le prossime settimane saranno importanti per definire assetti e strategie sul fronte della maggioranza amministrativa, adesso che gli equilibri sono tornati chiari e ben definiti.